Il bemolle. Procediamo il nostro percorso cercando di conoscere sempre di più questi simboli che possiamo trovare a volte accanto alle note. E questo ha un nome un po' strano in effetti, però una volta che impariamo a fare la sua conoscenza poi impareremo a conoscerlo. Il bemolle è questo piccolo simbolo, in pratica una b minuscola. E proprio come abbiamo già visto anche con il diesis, possiamo trovare scritto il bemolle in due modi diversi. Il primo modo è accanto alla nota, alla sua sinistra. E in questo caso, come succede già per i diesis, la nota cambia il suo nome. Un mi con questo simbolo accanto diventa un mi bemolle. Qualunque nota con un bemolle accanto cambia il suo nome e diventa si bemolle, la bemolle e così via. Questo è un modo accanto alla nota. Un altro modo con cui noi possiamo trovare scritto il bemolle è così. Anche questo già abbiamo imparato a vederlo con i diesis. Il nostro bemolle è scritto con la pancia, la parte più grossa, sopra a una linea. In questo caso la linea è quella della nota SI, per la mano destra e anche per la mano sinistra contemporaneamente. Allora, cosa vuol dire? Questo simbolo mi dice, stai attento perché io non te lo ripeto per tutte le note SI che tu troverai mentre suoni questo brano. Ti devi ricordare da solo che ogni volta che trovi un SI lo devi suonare bemolle. Io, guardando un po', vedo che già qui ho un SI. Suonerò questa nota bemolle. Anche qua la mano sinistra, che deve suonare due note contemporaneamente, ha un DO centrale e un SI. Questo SI sarà suonato bemolle, anche lui. È vero che il simbolino è scritto qua in basso, mentre questa nota è scritta su in alto nel pentagramma, ma questo per noi non ha importanza. Il SI, o meglio, il bemolle scritto in questa posizione vale per tutti i SI che noi troviamo sulla tastiera del pianoforte. Che siano più alti o più bassi, non ha importanza, li prende tutti. Quindi è un promemoria e mi dice, non te lo sto a scrivere accanto a tutti i SI che trovi. Te lo dico all'inizio e poi te lo devi ricordare da solo. Ma, a tutti gli effetti, che cosa vuol dire suonare un bemolle? Semplicemente il contrario di quello che abbiamo già fatto con il diesis. Il diesis ci diceva di spostarci sul tasto a destra. Il bemolle ci fa fare il contrario. Il bemolle ci dice di spostarci sul tasto a sinistra. Ad esempio, mi naturale, mi bemolle, eccolo qua. Perché se io mi sposto a sinistra di un gradino o di un semitono, usando questa parola che abbiamo già imparato a conoscere, se mi sposto di un semitono a sinistra, trovo questo tasto, non il re. Perché per andare sul re mi devo spostare di due semitoni. Il bemolle o il diesis mi dicono di spostarmi di un semitono soltanto. Da questa nota, che è naturale perché è sui tasti bianchi, mi sposto quindi al suo posto suono questa. Non suono il tasto bianco, ma suono quello nero. Se fosse stato un la bemolle, benissimo, al posto del tasto bianco, suono il tasto nero che sta a sinistra. E quando il tasto a sinistra è bianco anche lui, suono il tasto bianco. Se devo suonare un do bemolle, suono questo tasto, perché se io mi sposto di un semitono verso sinistra, trovo questo tasto. È vero che lui si chiama sì, ma una volta ogni tanto, molto molto raramente, potrebbe chiamarsi do bemolle. Se in uno spartito leggo do bemolle, non suono questo tasto, ma al suo posto suono questo. La stessa cosa vale per il fa bemolle. Dal fa, se mi sposto di un semitono, cioè di un gradino, verso sinistra, io mi ritrovo sul mi. Lui si chiama sempre mi, ma una volta ogni tanto potrebbe succedere che si chiami fa bemolle. Questo non mi preoccupa, lo so, e quindi mi comporto di conseguenza. Ma una domanda che può venire è questa. D'accordo, io trovo un sol bemolle, mi sposto a sinistra e suono questo tasto. Ma non avevamo già detto che questo tasto si chiama fa diesis? Sì, è vero, i tasti neri hanno due nomi, perché possono servire come diesis o come bemolle, a seconda di quello che vedo scritto sullo spartito. E' così, è una piccola regola, basta ricordarci che i tasti neri non hanno solo un nome, ma ne hanno due. Lui potrebbe essere contemporaneamente un do diesis, perché io dal do tasto bianco, se devo suonare il diesis, mi sposto a destra e quindi vado qui. Do diesis. Ma potrebbe essere anche un re bemolle. Questo è il re naturale, mi sposto di un semitono a sinistra e trovo lui. Quindi lui si chiama contemporaneamente do diesis e re bemolle. Lui si chiama contemporaneamente re diesis oppure mi bemolle. Lui si chiama fa diesis oppure sol bemolle. Lui si chiama sol diesis oppure la bemolle. Lui si chiama la diesis oppure si bemolle. E questo è tutto.